Salve amici del Centro Medio Italiano, l'anticiclone africano che negli ultimi giorni di giugno ha portato temperature da record su buona parte dell'Europa ha ormai le ore contate. Con l'inizio di luglio infatti i correnti più freschi e instabili si faranno man mano più spazio anche sull'Italia, favorendo la formazione di acquazioni e temporali soprattutto pomeridiani. Si inizierà con i primi fenomeni sulle Alpi mentre con il passare dei giorni l'instabilità si farà più marcata anche sull'Appennino. Non si esclude poi che già a martedì 2 luglio locali fenomeni possano sconfinare verso le prealpi e le zone pedemontane. Da mercoledì invece piogge temporali raggiungeranno anche la pianura padana con fenomeni localmente intensi specie sui settori centro-occidentali del nord Italia. Per tutti i dettagli sulle previsioni per le vostre località vi invitiamo come sempre a seguire il nostro sito e a scaricare la nostra App Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.